Nuovi crolli nella galleria laziale dopo la chiusura del tunnel nel 2018, quando fu rifatta completamente la volta che congiunge fuori grotta con Mergellina, stamattina nuovo crollo al di sotto della volta di uscita di piazza San Nazaro. Calcinacci sono crollati su alcune autovetture ferme al semaforo intorno alle 11. Immediatamente sul posto ai vigili del fuoco il personale della Napoli Servizi, che hanno chiuso il traffico veicolare e messo in sicurezza con reti verdi la parte di volta interessata da un'infiltrazione d'acqua. Bisognerà capire adesso se ci sarà bisogno di nuovi interventi di messa in sicurezza e quanto dureranno. Intanto oggi pomeriggio, dalle 15 alle 20, blocco del traffico per superamento delle polveri sottili. I napoletani sono scoraggiati ed arrabbiati. Non è fortunata questa grotta, non credo che abbiano sbagliato dei lavori, però evidentemente ci sarà qualche problema più grave, strutturale. I lavori non li fanno come li devono fare, quindi siamo a Napoli e così funziona. Ma questa è sempre questa grotta qua, perché non fanno i lavori come si deve, devono mettere gente più esperta in questi lavori qua, perché questi sono lavori di sicurezza, qua passano un milione di macchine ogni anno e quindi è molto pericoloso. Troppo vecchia, secondo me, come anche la strada via Duomo, il fatto di fare la ricondizione che è caduto. Secondo me si deve strutturare un po' con Napoli, anche se la mia città stanno ancora parti vecchie. I lavori sono stati fatti male, quindi bisognerebbe avere più impegno quando si fanno i lavori. Via Medina ha pochi passi dalla Questura e dalla sede del Comune. Piazza Dante, vicino la Metropolitana, via Sant'Anna dei Lombardi e via Monte Oliveto, nello spazio antistante lo scalone delle poste centrali. Quattro incendi ad altrettanti punti, dove si trovano i cassonetti per la raccolta dei rifiuti, appiccati in contemporanea la scorsa notte a Napoli. Non è la prima volta che succede, c'è da scommettere, che non sarà l'ultima. Inizia a essere preoccupante però il fenomeno. Gli episodi continuano a verificarsi e se all'inizio il fenomeno veniva derubricato da azioni vandaliche, opera di giovani, è difficile adesso credere non ci sia una strategia ben definita all'origine, mirata a creare una situazione d'emergenza. A denunciare i continui roghi tossici, considerato che era l'area a fuoco e soprattutto plastica, Francesco Borrelli, consigliere regionale della Campania e il consigliere della seconda municipalità Pino d'Estasio. I quattro incendi dolosi della scorsa notte vanno ad aggiungersi agli 88 che si sono verificati dal 18 marzo ad oggi. Il ripetersi dei casi ha portato i vertici dell'Asia già a sporgere denuncia alla questura. E non è un bel biglietto di presentazione per i numerosi turisti che in questo periodo affollano le strade della città. Le criptovalute sono entrate a pieno regime nel nostro sistema di scambi. In assenza di un quadro normativo i commercialisti affiancano le imprese per contribuire ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa fiscale. Ad affermarlo Vincenzo Moretta, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando il forum blockchain economia delle criptovalute che si è tenuto a Napoli. Secondo Antonella Laporta, numero uno della federazione donne dottori commercialisti ed esperti contabili, le nuove tecnologie attraverso le quali le criptovalute girano sono state oggetto di approfondimento e studio in modo da garantire ai clienti una consulenza sempre più vicina alle aziende. Napoli si conferma una città all'avanguardia nello scenario economico, finanziario e sociale soprattutto, non soltanto italiano ma direi europeo. Oggi si discute degli stessi argomenti a Milano in una fiera internazionale, quindi vuol dire che se noi siamo qui oggi è perché siamo all'avanguardia come società e come professionisti. Infatti la sinergia tra la pubblica amministrazione e il mondo delle professioni è sicuramente una novità di rilievo nello scenario complessivo. Procedere su tematiche comuni con contributi reciproci, tecnici, scientifici, logistici e culturali è sicuramente una peculiarità della nostra città che intendiamo preservare, conservare e coltivare. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris è convinto che questo sistema possa essere una marcia in più per la città di Napoli. Noi siamo molto contenti perché abbiamo fatto in Italia la prima delibera su blockchain, criptomonete, token e quant'altro. Ci fa molto piacere vedere che in tanti stanno condividendo questo progetto. Devo dire l'ordine dei commercialisti è stato tra i primi, ma sono tantissimi professionisti, le istituzioni, le università, il CNR. Ricorderete l'iralità con cui fummo accolti quando facevamo questa delibera. Fecero uscire pure le immagini che mi ha fatto molto sorridere, quindi mi ha fatto piacere. Di me il vice sindaco come te tu e Peppino come se stessimo facendo una truffa politica, invece tra breve sempre di più tutti si accorgeranno che questa città che è sempre più avanti degli altri in termini di capacità creative, di mettere insieme diritto ed economia, finanza e partecipazione sociale, mette in campo non solo un sistema di trasparenza e di tracciabilità come la blockchain, ma anche quello di far muovere l'economia circolare grazie al token partenopeo che verrà sempre di più utilizzato da attività economica della nostra città. A breve partirà la sperimentazione con circa 100 utenti, a settembre con l'inizio dell'anno scolastico andremo a pieno regime, lo utilizzeremo anche alle universiadi, quindi Napoli sempre di più autonoma. L'amministrazione comunale con la collaborazione di Celice Balsamo ha già avviato una serie di progetti in criptovalute presso molti esercizi napoletani. Il progetto Napoli Blockchain Criptovalute che è nato circa un anno fa ha fatto grandi passi avanti dal piccolo, dal progetto embrionale del Comune di Napoli, oggi siamo qui con l'ordine dei commercialisti perché ci ospirano uno dei quattro convini che si sono fatti fino ad oggi e altri sono programmati da qui a luglio e a settembre e faremo un punto della situazione sia sulle attività commerciali che sono state attivate e che già iniziano a ricevere i pagamenti criptovalute ma soprattutto interessiamo l'ordine dei commercialisti perché il commercialista ovviamente è una parte attiva di questo progetto e inizia ad essere una perioda fondamentale soprattutto per quanto riguarda la contabilità e le materie fiscali. Sono andati per uno sfratto ed è stata trovata una donna che presumibilmente esercitava il meretricio. Una brillante operazione con il risvolto a sorpresa è stata messa a segno dai vigili urbani di Nocera Inferiore agli ordini del comandante Giuseppe Contaldi. I caschi bianchi erano stati chiamati a supporto di un'attività di acquisizione di un immobile di Viazzori a Nocera Inferiore. Più volte infatti l'ufficiale giudiziario aveva provato a prendere possesso della struttura ma senza successo. Questa mattina si è fatto accompagnare dalla forza pubblica. Alcuni vicini avrebbero però riferito che all'interno ci fossero delle persone. Il comandante Contaldi e i suoi uomini hanno intimato di aprire ma dopo un'ora di attesa hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. I caschi rossi del distaccamento di Nocera Inferiore hanno aperto la porta finestra dell'appartamento sito al piano terra di un caseggiato risalente agli anni settanta e si è scoperto che l'abitazione non era disabitata. I vigili urbani e il personale del tribunale quando sono entrati hanno trovato una donna di origini cinesi accovacciata sul letto. La ragazza impaurita dal trambusto non ha proferito parola. Nell'abitazione di Fortuna c'era un letto e un cucinino. È apparso evidente subito che all'interno si svolgesse un'attività di prostituzione in quanto sui mobili e al loro interno sono stati trovati sex toys, preservativi e alcune pillole verdi che, ipotizzano gli inquirenti, dovrebbero essere farmaci di provenienza asiatica utilizzati come equivalenti di Viagra o Cialis. La donna, sprovvista di documenti, è stata portata dai vigili urbani del comandante Contaldi al commissariato di polizia di Stato per l'identificazione. Non è risultata però negli archivi di polizia ed oggi ci sarà il passaggio per l'immigrazione. Pare che i clienti fossero reclutati attraverso siti specializzati in appuntamenti. Era da tempo che i residenti della zona segnalavano un via vai di uomini dall'appartamento che doveva essere pignorato. Nella sala Enzo De Lucia della direzione regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate a Napoli sono state premiate le scuole vincitrici della sesta edizione del concorso Fisco e Scuola per l'anno scolastico 2018-2019. La direzione regionale delle Entrate della Campania aveva scelto il tema Caro Sindaco invitando gli studenti ad elaborare un progetto in grado di migliorare la loro città da sottoporre idealmente al proprio sindaco o amministratore locali affinché sia realizzato con i proventi di tasse ed imposte. L'Agenzia delle Entrate della Campania ha selezionato quattro scuole in quattro diversi ambiti. Torre del Greco, Succivo, Casal di Principe e Sant'Antimo. Ascoltiamo Renato Natale, sindaco di Casal di Principe. Noi abbiamo già realizzato qualche sogno alla proprietà comunale che era una richiesta che ci è venuta da una ragazzina della seconda media. Siamo riusciti a realizzarla. Oggi loro ci fanno una richiesta molto più semplice, fare un cineforum. Riusciremo a realizzare anche questo. Ma soprattutto è importante costruire collegamento con le nuove generazioni e con i temi e i bisogni di un ente locale. Per questo motivo mi stavo sperimentando attività di formazione con loro da portare avanti anche nel prossimo futuro. Il progetto Fisco e Scuola in Campania è nato nel 2004 in collaborazione con il Ministero dell'Istituzione dell'Università e della ricerca che mira a diffondere tra i giovani la cultura della legalità come spiega Salvatore Cortese di Agenzia delle Entrate Campania. L'Agenzia delle Entrate su questo versante fin dal 2004 organizza il progetto Fisco e Scuola in cui i nostri funzionari si regano presso gli istituti scolastici per divulgare la cultura della legalità e del pagamento delle tasse. Quest'anno tra l'altro siamo al sesto anno di un progetto quindi noi andiamo a premiare anche dei progetti che i ragazzi elaborano in materia fiscale. Quest'anno il progetto si intitolava Caro Sindaco e voleva mettere i ragazzi alla prova per dare al sindaco delle indicazioni su come migliorare i servizi, l'efficienza della città utilizzando appunto i proventi dei tributi che vengono pagati. Quindi un coinvolgimento che dalle imposte tende a migliorare l'efficienza della città in cui i ragazzi vivono. Si è aperta con l'inaugurazione della mostra Sport Time di Gianluca Carbone, la sezione Sport Opera lo spazio che il Napoli Teatro Festival dedica all'originale relazione tra arte e sport. Sulla scia di un precedente lavoro, The Time, l'esposizione di Carbone indaga il rapporto tra tempo e sport, inscindibile binomio raccontato attraverso i ritratti di alcuni protagonisti del mondo sportivo. Mi hanno chiamato per esporre qui, insomma avevo a disposizione dei quadri che stanno alle mie spalle che sono proprio legati allo sport e da questo sono partito per questo evento nello specifico sullo sport. L'intera rassegna curata da Claudio Di Palma si configura come un osservatorio attivo in cui recuperare l'originale relazione tra arte e sport. Otto spettacoli per questa sezione, incentrata quest'anno sull'errore sportivo e sulle trasgressioni di quell'equilibrio ideale richiesto ai grandi atleti nelle competizioni sportive come nella vita. Tutti gli spettacoli sono all'insegna di questa esplorazione, del limite che però diventa una grande risorsa per l'atleta. Non è detto che disattendere quel parallelismo fra il record e lo stile voglia dire non raggiungere un record, non essere stilisticamente apprezzabili. Figure nello sport, nella storia dello sport come Agassi, come Zatopec, come Coppi dimostrano che anche un fisico potenzialmente inadatto al gesto atletico, fondandosi sul proprio limite può ritenere il limite una risorsa e può ottenere dei record. Luciano Melchionna nell'ambito della rassegna ha presentato al Teatro San Nazario in prima assoluta fisicamente un monologo scritto da Melchionna insieme a Betta Cianchini di cui interprete Maria Bolignano che affronta il tema del corpo in rapporto ai suoi limiti fisici e cognitivi. Siccome quest'anno il tema principale è l'errore e le conseguenze positive o negative mi ha sembrato importante parlare di un errore che non fosse del campione, non fosse dell'atleta ma un errore di natura, del fatto, di Dio, boh, fatto sta che a un certo punto forse scatta qualcosa per cui quell'errore probabilmente non è un caso. Forse nella mia storia e forse la stessa immagine che ho avuto il piacere immenso di conoscere, forse era la prescelta, chi lo sa. Vita del Borgo 2.0 è il titolo della mostra fotografica personale di Sofia Barricelli che si è tenuta presso il centro polifunzionale di Sant'Angelo di Ischia nell'ambito del progetto dal monte Pomeo al Borgo Maritaro di Sant'Angelo. Pescatori dal volto rugoso, barman accoglienti, bambini dagli occhi vispi, il Borgo di Sant'Angelo di Ischia si racconta attraverso i volti dei residenti. In un inno locale, nell'era della globalizzazione, un orgoglioso senso di appartenenza e di identità alla piccola frazione di Serrara Fontana. Il percorso fotografico dell'autrice, che si è formata presso il centro fotografia indipendente di Napoli, abbraccia anche la quotidianità dell'isola che non vive di solo turismo. Ho cercato di raccontare la Sant'Angelo intima in una ricerca di due anni che mortale residenti catturandone gli sguardi d'inverno quando appunto il Borgo non vive di turismo, ha raccontato l'autrice. Mezzo secolo al servizio di una professione che nasce artigianale e diventa arte. 50 anni di attività in quella che era una bottega di barbiere in via Mascagni, ma che oggi è il tempio dell'acconciatura maschile. La leggenda narra che Antonio Ilardo, in arte tonito pazio, sia stato proprio l'idiatore di questa definizione, più consono al segmento moda, ma nel suo caso anche più affine alla sua straordinaria abilità. Da quando ha aperto nel 1969 la bottega al civico 39, i ricordi si rincorrono. Quando sono venuto io qua nel 1969, qua in questa strada c'era solo la mia macchina, una 500 bianca, poi non c'era niente. Diciamo che negli anni la zona si è sviluppata molto bene. Ero già molto conosciuto perché tagliavo capelli a tutti i complessi napoletani e quindi ho avuto una grossa fortuna. Domenico Rea amava farsi curare il taglio chiacchierando amabilmente, ma Radona era uno abbastanza sbrigativo anche perché carico di pressioni. I tantissimi calciatori, professionisti e personaggi nel mondo del jazz set partenopeo fanno parte della Galleria dei Ricordi di Topazio. Nel 1974 che ho vinto una Coppa a Parigi molto bella, ho fatto un lancio di moda, sono stato premiato da due campioni del mondo e alla fine del taglio che ho fatto, ho fatto i capelli bianchi, rossi e verdi della bandiera italiana. A festeggiarle insieme a centinaia di persone del quartiere, nel cuore di quel vuomero allo stesso tempo operoso e tradizionalista, anche l'ex procuratore d'attuale europarlamentare Franco Roberti, l'editore Rosario Bianco, il primario Fulvio Caliso e tantissimi altri medici e professionisti napoletani. Bisogna amare non solo questo, ma tutti i lavori artigiani che purtroppo i ragazzi oggi pensano solo ai soldi, ma non sanno soffrire al momento, devono soffrire. Se sanno soffrire potranno vincere. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.